signori la notte del giudizio allora il primo film del cofanetto vale tutto il cofanetto gli altri non li ho ancora visti a parte il quarto che ho recensito un attimo fa prequel che fa schifo il primo invece è un 8 l'originale con Ethan Hawke vale la pena di essere visto bellissimo thriller